signore e signori vi ridiamo il benvenuti e il bentornati nelle nostre video interviste di favara web l'avevamo anticipato la settimana scorsa chiedendo dopo che avevamo sentito i vari cittadini di viale cechevara l'intervento dell'assessore ai lavori l'ingegnere nicotra che in questo momento è qui con noi e che gentilmente ci sta rilasciando un'intervista in esclusiva oggetto delle dell'intervista di questo pomeriggio l'argomento è sempre lo stesso vero riguardano i 300 mila euro dei fondi compensativi anas e le strade individuate all'interno del di favara dove questi soldi verranno spesi per poter rendere la nostra città diciamo più agibile soprattutto ma per quanto riguarda una nuova manutenzione e pavimentazione ora qui con noi appunto abbiamo l'assessore nicotra assessore la grande polemica nata per questi 300 mila euro di fondi compensativi anas che hanno rivestito in particolar modo la sua figura i criteri utilizzati come prima domanda criteri utilizzati per la scelta di una strada piuttosto che un'altra quali sono stati allora diciamo che la scelta è piuttosto orientativa perché appunto poi con il bando verranno messi dei pesi dove all'interno appunto possiamo mettere dare un peso alle strade alla quantità di strade che si vogliono fare e quindi possiamo andare ad introdurre nuove strade perché appunto con la gara d'appalto che verrà fatta che sarà gestita dall'urega verranno dati dei pesi a livello quantitativo e anche a livello qualitativo appunto dei materiali scelti di come si vorrà fare questo lavoro la grande polemica che è nata riguardava in particolar modo la nomenclatura di tratti di bitume gli abitanti di viale cechevara come abbiamo visto anche nelle interviste che hanno rilasciato sempre i nostri microfoni si sono anche un po' arrabbiati alterati sentendosi dei cittadini di serie b perché vedevano come il circuito all'interno della piazza è stato inserito per una nuova pavimentazione mentre viale cechevara che comunque una strada che possiamo dire che ormai con il fatto che viene segnalata e trova delle difficoltà anche di fruizione veicolare sebbene sia segnalata da dei segnali di pericolo eccetera però da più di un anno verso in condizione sempre peggiore ecco del perché viale cechevara interessa da solo a tratti di bitume non da nuova pavimentazione allora noi con appunto la gara che stiamo preparando stiamo facendo l'offerta economicamente vantaggiosa dove le imprese i partecipanti presenteranno dei progetti nulla toglie nulla esclude che un'impresa possa parte che possa presentare anche un progetto dove vada a ripristinare il tratto di via cechevara poi diciamo saremo qui a valutare appunto tutti i progetti ma nell'ipotesi nella peggiore nell'ipotesi che non arriva nessun progetto via la cechevara i cittadini di via la cechevara non devono sentirsi di serie b perché noi per noi non esistono cittadini di serie b ma esistono solo cittadini e noi già abbiamo individuato delle somme che vengono da ioneri di urbanizzazione nella più nella peggiore delle ipotesi appunto nella malagurata ipotesi che nessuno vada a presentare un progetto su viale cechevara ci muoveremo con ioneri di urbanizzazione per andare a ripristinare questo tratto quindi pratica sebbene probabilmente con questi 300 mila euro dei fondi compensativi anas viale cechevara non rientra in una nuova diciamo pavimentazione quindi nel nuovo mando stradale e quindi interessata solo a tratti di bitume però non viene dimenticata ma anzi ma anzi è presa in considerazione con i fondi degli oneri di urbanizzazione quindi un lavoro che riguarda completamente questa importante arteria di favara bene dobbiamo anche dire che all'interno di questa polemica tra virgolette che è nata sempre intorno a viale cechevara ma anche altri tratti di strada perché sono molti gli abitanti anche da altre parti di favara che sono sentite esclusi da questi lavori di manutenzione straordinaria delle strade e anche consigliere d'opposizione hanno cercato di stare accanto dei cittadini per esempio le consigliere del gruppo misto marili chiapparo e rossana castronovo parlavano relativamente ai fondi e da spendere per la piazza e quindi anche tratto arcocavisi con una pavimentazione artistica questi qua sono dei lavori che possono essere fatti con dei progetti europei è vero ma se loro sanno delle misure io a oggi sono diciamo le sconosco se loro conoscono delle misure europee che riguardano appunto queste pavimentazioni artistiche che ci mettono a conoscenza di queste misure così ci organizzeremo per fare se esistono vabbè in questo caso dovrebbe essere anche l'ufficio europa insieme a tutta la squadra mi stranizza che non hanno comunicato all'ufficio tecnico visto i consiglieri che sono molto zelante a riguardo non hanno comunicato queste misure europee che appunto loro conoscono e l'ufficio tecnico non li conosce vogliamo cercare di comprendere rimanendo comunque all'interno della piazza che diventa che è diventata ormai da diversi anni anche il salotto di favara quindi a parte sede del comune ma è il luogo anche dove si muove la movida favarese la nata la rinata movida favarese cerchiamo di racchiudere all'interno di un perimetro di spiegazione cosa vuol dire pavimentazione artistica nel tratto arcocafisi e soprattutto cerchiamo di poter quantificare in maniera così anche allatoria senza avere una conoscenza di fondo più o meno anche la cifra che si potrebbe spendere per fare questa pavimentazione artistica visto che anche questo è diventato un motivo di scontro ma questo appunto saranno poi diversi progetti che si presenteranno ad essere valutati e pensi in considerazione quello che poi diciamo la commissione ritiene più opportuno perché ci sarà una commissione formata di specialisti e quello che riterrà più opportuno prenderlo in considerazione allora un'ultima domanda per rassicurare tutti gli abitanti di favara che non esistono cittadini di serie a di cittadini di serie b ma anzi l'assessore nicotra qui che molto gentilmente ci sta rilasciando questa intervista con l'obiettivo proprio di spiegare come verranno utilizzati questi 300 mila euro dei fondi ANAS ricordiamo sono dei fondi compensativi per una manutenzione straordinaria ma anche altri oneri di urbanizzazione quindi altri soldi che arriveranno verranno spesi proprio per rendere favara il più bello possibile no sicuramente e noi appunto ci stiamo muovendo come amministrazione nel cercare di dare più soddisfazione ai nostri cittadini soddisfazione che poi è nelle piccole cose quindi siamo vicini alla bella stagione quindi ci saranno più movimento più persone più motorini in giro e cerchiamo di mettere quando il più possibile le strade in sicurezza quindi appunto la nostra amministrazione si muove per dare più soddisfazione possibile ok con questo penso che abbiamo risolto più che altro le domande che ci sono state poste anche al di là dei microfoni anche con delle segnalazioni giunte al nostro giornale ringraziamo l'assessore nicota per aver rilasciato questa intervista in esclusiva la rassicurazione c'è tutta ovvero tutti gli abitanti avranno le strade sistemate per una maggiore ed una più sicura veicolazione all'intero delle no della nostra città di favara con questo vi ringraziamo ancora una volta per aver guardato le nostre video interviste vi diamo appuntamento a tutte le altre grazie e buona giornata